stabilisci in quale idruro è contenuto la più alta percentuale di idrogeno e gli idruri che ci dà il problema sono CAH2 idruro di calcio, LIH idruro di litio, KH idruro di potassio, ALH3 idruro di alluminio. Allora per fare questo esercizio noi dobbiamo andare a capire quanto percentuale di idrogeno c'è in tutti questi composti e dire tra questi quattro idruri qual è quello che ha la percentuale di idrogeno più alta. Quindi per ogni idruro noi dobbiamo andare a calcolare la massa molecolare, quindi l'idruro di calcio sarà calcio 40 più 2 volte il peso dell'idrogeno, 2 per 1, quindi 42. Adesso calcoliamo per l'idruro di litio, il litio 6,9 quindi massa molecolare uguale 6,9 più 1 uguale 7,9. Potassio, il potassio 39 quindi massa molecolare uguale 39 più 1 che è uguale a 40 l'idruro di alluminio, alluminio 26,98, scriviamo 27, massa molecolare uguale 27 più 3 volte il peso dell'idrogeno quindi 27 più 3, 30. Unità, 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 unità. Benissimo. Adesso il mio 100% è tutto il peso della molecola, cioè 42. In questo caso è 7,9, in questo caso 40, in questo caso 30. Quindi su questo 100% che percentuali di idrogeno io ho? Ok, allora 2 che è il peso totale dell'idrogeno sta a 40 che è il peso di tutta la molecola come la percentuale dell'idrogeno sta a 100. Il percentuale di idrogeno è uguale a 2% diviso 40 ed è uguale 2% diviso 40, 5%. Quindi nell'idruro di calcio l'idrogeno è il 5%. Adesso calcoliamolo per l'idruro di litio, stessa impostazione della proporzione, cioè il peso dell'idrogeno, 1 in questo caso, sta a tutto il peso della molecola 7,9 come la percentuale di idrogeno sta a 100. Percentuale di idrogeno uguale 1% diviso 7,9. Quindi 100 diviso 7,9. 12,66%. 12,66% e lo scrivo grande qui. Passiamo all'idruro di potassio. Anche qui l'impostazione è la stessa. Il peso dell'idrogeno sta al peso totale come la percentuale dell'idrogeno sta a 100. Percentuale di idrogeno è uguale a 100. Percentuale di idrogeno è uguale 3% diviso 30. 300 diviso 30, 10. Quindi ritornando alla domanda principale del problema che mi dice stabilisci in quale idruro è contenuta la più alta percentuale di idrogeno, io posso dire che nell'idruro di alluminio c'è la più alta quantità di idrogeno pari a 12,66%. Alla domanda.